la villa di acero è silenziosa da un po' lucrezia luce non hanno avuto figli e le domestiche lavorano fondamentalmente in silenzio quando loro sono vicini ma quando lupo sbatte la porta della villa urlando il grido sembra riportare vita nella casa una vita violenta che si impone sul silenzio la voce del minatore esplode distanza in stanza e lucrezia subbalza l'elfa oscura è spaventata le mani ne iniziano subito a tremare sui braccioli della sua sedia a rotelle lucio inizia a chiamare a gran voce mentre si gira con la sua sedia la porta della camera si apre e il minatore di carbone emerge dal corridoio gli occhi di braccia che brillano sotto il bordo del caschetto una proposta per Olga la posso fare in metà metà game come si dice vuoi usare un dato magia o non si chiamano più dati magia i punti trama vuoi usare un punto trama per riprenderti perché hai due punti vita eh lo so stavo pensando anch'io però più che altro non saprei come inserirlo appunto a livello di trama cioè nel senso allora teoricamente dovrebbe essere una cosa sconvolgente un colpo di scena e abbiamo detto che le pozioni curative non esistono teoricamente però spendendo un punto trama magari la nostra la nostra amica cano è già andata via la nostra amica aspetta fammi pensare a qualcosa di sensato per come abbiamo deciso di usare i punti trama deve essere comunque qualcosa che abbia senso nel mondo sì e le pozioni curative non ce l'hanno no nope nope però potrebbe aver senso che l'oggetto magico che abbiamo trovato emana della magia curativa questo è un'ottima idea possiamo fare così possiamo cambiare l'effetto dell'oggetto magico sì ah no è vero però era bello non può fare entrambe le cose non mi ricordo quali era allora non abbiamo mai detto in realtà nel podcast vero e proprio non abbiamo parlato in una discussione dopo perché i vostri personaggi non ne sanno non lo sanno ancora però in pratica è un oggetto magico che ti permette di cambiare aspetto quando vuoi fondamentalmente ma prendi l'aspetto di una persona che manca a qualcuno che sta attorno fondamentalmente che ha senso per tutto se tu lo indossi esatto se tu lo indossi e lo utilizzi nella folla rischi che qualcuno si giri e veda la madre che non vede più da tanto tempo e quindi ti venga a parlare mentre tu sei intravestito in persona e non hai idea di chi stai indossando in pratica e secondo me possiamo tenerlo e aggiungere un altro oggetto magico visto che sono così importanti gli oggetti decryptori un altro effetto magico scusate però mi piacerebbe che avesse la stessa regola cioè non la stessa stessa però la stessa idea no che la magia dà in cambio di qualcosa o che ha un effetto collaterale di qualche tipo ok ho un'idea potrebbe restituire non so come dire della vita al momento quindi se uno è messo male se uno ha una malattia lo cura però è come se improvvisamente invecchiasse di cinque anni in più ho un'altra idea anche da sprovare allora prima commento su questa da dungeon master poi la scelta è vostra quindi io presento soltanto il mio commentario è poco efficace come design dell'oggetto magico perché si vede poco l'effetto ok cioè non è non aumenta il rischio non aumenta capito ok 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 io la pensavo legata sempre ai volti perduti agli altri volti e cioè più o meno quello che dice Giada ma su qualcun altro guarisce qualcuno ma fa del male a qualcuno attorno e questo potrebbe essere carino perché magari noi all'inizio non ce ne rendiamo conto ok magari lo scopriamo usandolo o indagando dopo e ovviamente è una cosa brutta se non si fosse capito è brutto che facciamo del male agli altri ma qui intendi fa male cioè nella serie a livello di meccaniche i punti che restituisce a me li toglie per dire a te a qualcun altro sì a qualcun altro a qualcun altro non a me a qualcun altro anche io ne ho pochi allora Emilio anch'io pochi punti vita senti non è che perché Giada ha deciso sta roba adesso uccide no però era bella l'idea che così come prendi il volto di qualcuno l'attorno la stessa dinamica è attorno per questa cosa della guarigione mi piace mi piace come cosa può essere anche una cosa che non è direttamente i punti vita può essere anche che fa andare storto a qualcuno quindi magari vedete non lo so tu usi i punti vita e magari vedete per strada che si rompe la bancarella a uno oppure succede qualcosa bello perché mi è venuto in mente ascoltando la vostra puntata sul dubbio morale come si chiama ok però potrebbe essere che dici Olga? secondo me è figo ovviamente all'inizio lo scopriamo per caso nel senso io sicuramente dopo aver preso l'oggetto magico mi rifiondo su Olga per cercare di aiutarla e quindi un po' magari appunto dall'oggetto magico dalla collana emana la collana emana una luce ok la collana non è una collana scusate il ciondolo emana una luce sì sì avevo detto che ha anche la catenella dorata ok perfetto e mi piace l'idea che quasi come poi mi dici tu se va bene nel personaggio diametista no? ma quasi l'idea come se si sentisse in colpa perché si è concentrata così tanto sull'oggetto magico che voleva fin dall'inizio e quindi poi vede Olga così conciata pallida col sangue si lancia verso di lei e nel farlo attiva inavvertitamente l'oggetto magico quando la telecamera si sposta su di voi vediamo appunto ametista che si muove verso Olga e l'oggetto magico che inizia a diventare caldo nelle mani percependo il desiderio di ametista di curare la sua compagna e luce rossa inizia a filtrare tra le dita e un bagliore simile inizia a riempire le ferite di Olga già da lancia i due da D4 ok quindi sono 5 più 4? sì alla fine? ok quindi sono 9 quindi vado a 11 io immagino di sentirmi meglio e che appunto le mie ferite ho visto che si stanno praticamente richiudendo con la borraccia mi pulisco il sangue che comunque mi è rimasto addosso la chiudo sembra un oggetto piuttosto interessante sì sì ma tu stai bene? non ti preoccupare sto molto meglio sono pronta a prendere quel maledetto io allora prendo l'oggetto lo metto via in realtà nello zaino e le faccio un cenno per dire che sono pronta anch'io quindi vediamo l'oggetto sparire e poi quando la telecamera si rialza voi siete già davanti alle porte della villa e state entrando nel corridoio la porta è spalancata contro la parete interna sbattuta dal minatore e quando entrate vedete stesa per terra a lato dell'ingresso Cecilia svenuta no no io dico mannaggia ok mentre Olga dice mannaggia non sembra avere segni addosso di colpi ferite semplicemente sembra essere all'improvviso svenuta era a due piani vero la villa? la villa era su due piani sì non avete mai visitato il piano di sopra la stanza di Lucrezia al piano piano terra allora io correrei verso la stanza di Lucrezia anche perché è l'unica persona che c'è nella stanza nella casa io mentre vedo Ametista correre rimango giusto due secondi da Cecilia e con il calcio del fucile provo a farle toc toc sulla spalla tentando di farla rinsavire sì la spingi un po' con il calcio del fucile e la testa si gira si sente russare ti sembra adesso il momento di addormentarti? cerco di alzare un po' la voce e di spingere ancora di più col fucile non sembra avere effetto continuo a dormire inizio ad andare avanti e intanto ricordo quel momento in cui Lumen aveva fatto addormentare sia Sakzar che Ametista quindi mi soggiunge il dubbio che non sia la stessa cosa e intanto corro anch'io verso Ametista raggiungete la stanza Ametista per prima e guardate dentro vedete il minatore che sta tenendo Lucrezia contro il suo corpo ha una mano sopra la bocca dell'elfa e nell'altra un coltello appoggiato alla gola l'elfa sembra essere quasi svenuta pallidissima e il minatore vi guarda e dice aspettavo che arrivasse Lucio in realtà se poteste andare via e tornare più tardi sarei un po' impegnato al momento senti lascia stare questa povera donna che non c'entra nulla è Lucio il tuo obiettivo no? sì ma prima o poi verrà a salvarla no? penso che gli abbiate detto quello che volevo fare sei ingenuo se pensi che venga a salvare sua moglie non sai il rapporto che c'è tra i due stai tentando di fregarmi ancora come nel corridoio della miniera no può dirtelo anche lei tira su persuasione ed è più un tiro che serve per permetterti di continuare a parlare uno perfetto lui alza lo sguardo perché esattamente come la prima volta che l'avete incontrato nel giardino teneva lo sguardo basso con il bordo del caschetto a coprirgli gli occhi e appena alza lo sguardo vedi gli occhi con queste sottili linee di braccia nelle pupille scure tira fammi un tiro salvezza su saggezza 10 mentre lo guardi negli occhi senti le viscere stringersi un'altra volta il freddo nelle ossa vecchie un po' artritiche e ti viene istintivo fare un passo indietro spaventata dal minatore mentre quello che è praticamente un incantesimo prende effetto sul tuo corpo oltre a fare un passo indietro lascio cadere a terra il fucile ok quindi si sente il rimbombo del fucile sul marmo dei pavimenti si gira verso ametista la tua socia sembra essere abituata a mentire quindi spiegami tu e per un attimo stacca il coltello dal collo di Lucrezia e te lo punta nella tua direzione spiegami tu cosa vuol dire che Lucio non verrà a salvarla Lucio verrà lo stesso qui ma non c'è bisogno di fare del male a lei cerca di di farlo pensando a tua sorella te lo ricordi tua sorella non tirate Alice dentro questa cosa arriverà anche il suo momento ma lei è gesticola di nuovo con il coltello facendole un taglietto lungo il collo ma lei è una delle proprietari della miniera assieme a Lucio e quindi se tanto devo vendicarmi tanto vale vendicarmi su entrambi e quale modo migliore usando una per attirare l'altro cerco di farmi coraggio fisso un attimo il fucile per terra maledicendomi perché l'ho lasciato cadere poi cerco di alzare lo sguardo e di tenerlo fisso su lupo anche se vorrei scappare beh se può consolarti quando lei ci ha ingaggiato per uccidere il criptorio era molto molto preoccupata per tutti i minatori lei non è come Lucio lasciala stare non c'entra niente guarda Ametista è vero quello che dice sì Olga prova ancora a tirare su persuasione però ho mandato perché anche io ho detto sì quel sì è vero no perché l'avrei fatto l'avrei fatto fare con svantaggio no ok e niente mi sa che non do ma mi sa dalla faccia di Giada mi sa che non è andata bene noi ci proviamo a a non attaccarlo però eh ce l'ha mettuto tutta ad essere buone ho fatto quattro vi guarda basta mentirmi questo è stato una volta di troppo e punta di nuovo il coltello io non vorrei ucciderla vorrei aspettare che arrivi qui Lucio quindi voi adesso per favore uscite dalla stanza e tornate quando è arrivato Lucio io guardo Olga da e cerco di di farle capire sì di uscire dalla stanza in realtà io annuisco leggermente deglutisco e sto con le mani alzate e mi abbasso prendo il fucile ma lo tengo praticamente con cioè con una mano giù per fargli capire che non lo sto impugnando contro di lui e sempre senza dargli le spalle mi allontano ancora e vado verso l'uscita e chiudete la porta ho un'altra domanda scusate quindi ciò che sappiamo dell'oggetto magico lo sappiamo noi ma non lo sanno i nostri personaggi no ok dovete gli oggetti magici in Kumo funzionano come negli altri setting se passate 15 minuti con l'oggetto magico potete entrare in sintonia e poi vi vengono svelati i segreti dell'oggetto magico quindi se trovate un modo per prolungare la situazione e metterla in stallo potrebbe essere una soluzione usare l'oggetto ok va bene noi ci siamo allora allontanate un attimo guardo Olga e le dico forse se provassimo a entrare da dove siamo uscite l'altra volta eravamo uscite da un'uscita secondaria vero? e c'è un veloce flashback dove si vede si vede dal punto di vista di Ametista perché quella scena era dal punto di vista di Olga quindi si vede Ametista che guarda indietro per capire dove è Olga e vede l'ultimo scambio tra Lucrezia e Ametista mentre e Olga mentre Olga sta scendendo dalla finestra e Lucrezia è proprio sul sul come si chiama sul davanzale a parlarle sì sì dobbiamo trovare un ingresso secondario e trovare un modo per attaccarlo alle spalle più che altro per liberare Cecilia no non è Cecilia Lucrezia con i nomi oggi non ce la possiamo fare per liberare Lucrezia per quanto non mi stia molto simpatica ma è un innocente anche perché non sappiamo quanto tempo ci metterà Lucio ad arrivare e se effettivamente resisterà nel suo intento o farà qualcosa di peggio già ok andiamo andiamo allora e vi ricordo che comunque avete un altro punto trama che è l'ultima sessione in cui potete spenderlo quindi nel caso uscite rapidamente dalla villa e seguite a ritroso la strada che avete fatto l'altra volta per andarvene non vi faccio tirare su sopravvivenza perché non sono così malvagio come dungeon master anche se la villa è abbastanza grande da metterci un paio di minuti per fare il giro completo fino alla posizione in cui eravate che significa che la condizione di olga finisce fortunatamente perché dura soltanto un minuto arrivate sotto alla finestra e dall'interno della stanza c'è completo silenzio né lupo né l'elfa parlano la posizione in cui ha la finestra rispetto a lupo cioè siamo un po' dietro di lui ancora quando l'avete visto lupo era vicino al tavolino dove avete firmato il contratto che era abbastanza vicino alla finestra cioè c'è di mezzo questa specie di salottino in cui lei accoglie gli ospiti fondamentalmente riusciamo a vederlo sì no sentiamo solo silenzio io mi immagino la scena visto che voi siete più basse del davanzale della finestra essendo gnome mi immagino voi tipo appoggiate con la schiena contro il muro della villa con sopra di voi la finestra ok quindi dovete trovare un modo per guardare dentro che significa lanciare su furtività fondamentalmente mentre una delle due solleva l'altra per vedere faccio segno ad ametista di farmi la scaletta vado 9 devo tirare anch'io su furtività si tira anche tu su furtività ok 16 mentre sollevi ametista facendole da scaletta con le mani allacciando tra loro le dita ametista colpisce il davanzale fa tipo mentre sale però riesce a sbucare fuori per guardare e dentro alla stanza non sembrano essersi accorti di niente lupo è fermo come l'avete lasciato quasi immobile e fa quasi impressione visto da fuori perché sembra una statua di carbone se non si muovesse Lucrezia e se non si muovesse lentamente le spalle a ritmo con il respiro sembrerebbe quasi una composizione artistica di qualche strano tipo scendo e lo dico quello che ho visto ad Olga dunque se provassimo a imitare la voce di Lucio a imitare la voce di Lucio per attirare lupo qua fuori io non credo di esserne capace onestamente tu sei capace di fare anche questo ametista non credo forse nemmeno di ricordarla molto bene non lo so hai altre idee tu mi fai da scaletta io sparo ah ah così ah sì non vedo molte altre soluzioni potrebbe essere forse rischioso per Lucrezia però va bene direi che abbiamo provato di tutto da quello che hai visto tu riesci a capire se la sta tenendo ancora con ok è ancora proprio per quello che non ero convinta dell'attacco che pizza e se una di noi attaccasse dalla porta e l'altra da qua lo potremmo prendere sicuramente alla sprovvista non se l'aspetterebbe sicuramente si aspetta di di trovarci separati cioè insieme l'unico problema è che non siamo abbastanza alte per arrivare al davanzale da sole io mi guardo attorno se vedo cosa vedo attorno alla villa non so se è un parco sì c'è un parco è un parco ben curato in realtà con questi aceri rossi che occupano un po' la parte esterna c'è una specie di prato e poi dopo incomincia attorno tira su percezione se vuoi vedere più nel dettaglio 12 il giorno diventa sempre più luminoso man mano che il tempo passa riesce entra a vedere rocce messe artisticamente attorno a piccole statue di animali o di fauni nella foresta nella foresta adesso nel boschetto comunque niente da utilizzare come base pensi che qualche roccia probabilmente potrebbe essere utilizzata come base non c'è una scaletta o cose del genere beh sì beh guardo Olga e indico i massi che ho visto della serie che dici proviamo ok vado io vado a prenderli e ti seguo perché non penso che tu riesca da sola non si sa mai fate un tiro su atletica ole andiamo raga due io ho fatto due vedi 11 siete costretti a rinunciare dopo qualche minuto che provate continuate a tentare di sollevare le rocce e portarle ma le braccia stanche dopo una nottata di continui combattimenti inseguimenti e misteri cedono ogni volta quindi tornate sconsolate verso la finestra e vi accorgete all'ultimo secondo che la finestra è aperta sentiamo qualcosa però sempre silenzio sempre silenzio io sussurro cerco di stare più attenta e dico mi sa che non ci rimane poi molto da fare magari aveva caldo e ha aperto la finestra può darsi e in ogni caso forse è meglio tornare dove eravamo prima e fare irruzione nella stanza in modo standard va bene corriamo fatemi un'ultima prova su furtività e poi iniziamo il combattimento in un modo o nell'altro diciassette diciotto più quattro tu ci vuoi far combattere noi vogliamo fare quello che vogliamo noi ninja riuscite a muovervi abbastanza in silenzio non sapete se vi ha visto dalla finestra non sapete se vi sta osservando vi muovete a limitare del boschetto più silenziosamente che potete sfruttando le ombre che gli alberi proiettano con le prime luci dell'alba e arrivate di nuovo all'interno della villa e ricominciate a come si dice a muovervi verso la stanza ed è in quel momento che vedete una sagoma che vi aspetta nel corridoio che sagoma è? si stacca dalle ombre e si avvicina e vedete che è Alice Beltrami l'agnoma muscolosa e con i capelli neri vi guarda e fa tutto bene ho visto il criptoreo l'avete ucciso? sapete qualcosa sul mio fratello? cara non è questo il momento di fare domande ma soprattutto che diavolo ci fai qui? volevo aiutare ho visto arrivare il criptoreo sono un ex militare e vedete che nell'altra mano è in mano una pistola io faccio un tiro su intuizione 13 ero preoccupata per i miei fratelli ho detto se c'è il criptoreo magari ci sarete anche voi magari sapete darmi informazioni in più poi potevo aiutare a ucciderlo ma visto che l'avete ucciso probabilmente voi e la tipa addormentata all'ingresso l'elfa ascolta sintonizzate io guardo Olga io guardo amintista fiera perché mi sembra che tutto il nostro processo di apprendimento sia finalmente concorso infatti è fiera è fiera anche Olga ti guarda negli occhi e ti facendo come per dire diglielo tu dico Alice purtroppo tuo fratello sta tenendo in ostaggio Lucrezia ed è stato lui a sospiro perché è difficile da dire ma a scatenare il criptoreo contro contro la villa purtroppo ha subito una trasformazione non non è in sé in questo momento tira su persuasione 18 18 Olga tu in quel momento sai che il tuo istinto è giusto che Alice sta dicendo il vero e vedete infatti l'espressione cambiare la voce spezzarsi meglio di quanto cioè la voce cosa volevo dire esattamente il mio cervello si è spento per un attimo ma quello che intendevo dire è che io non riuscirò a recitarlo abbastanza bene ok ma Alice sembra proprio percepire il colpo e dice qualcosa del tipo no ne ha combinata sapevo che non dovevo lasciarli ma Corvo sa di questa cosa non ha tentato di fermarlo questa volta purtroppo Corvo non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta è rimasto alla miniera io faccio cenno di no con la testa sperando che che capisca io le dico non tornerà mai indietro e le prendo una mano quella dove ha la pistola così grazie ci siamo e lei la lascia no però va bene no cioè sì l'intento comunque non era di disarmarla era no però ci sta per evitare che la alzi di scatto sì sì e vi guarda e fa com'è successo non lo sappiamo di preciso abbiamo trovato il suo corpo e poi subito dopo Lupo che però ha cercato di di attaccarci insomma è è stato veramente lunga e l'unica cosa che adesso conta è cercare di salvare altre vite e anche quella di di lupo di che trasformazione stavate parlando è diventato molto simile al criptoreo in un certo senso o comunque perlomeno agli oggetti che il criptoreo trasformava ma senza offesa in questo momento il tempo stringe ci sono due persone in pericolo di vita dobbiamo agire subito tutta la dinamica è molto confusa e per le domande ci sarà tempo quando sarà tutto finito sì signora è quella porta sì e indica la porta da cui siete entrate e uscite pochi minuti prima stavo giusto andando per lustrare la villa quando io ho sentito entrare poi guarda Olga fa maggiore come come lo prendiamo tu potresti essere il nostro effetto sorpresa quindi potresti fare irruzione tu provare a parlargli io nel frattempo potrei provare a disarmarlo ha qualche arma da fuoco è armato lui ha un coltello che punta alla gola dell'ostaggio si è trasformato e ha scatenato lui il criptorio sì per vendicarsi ma le cose sono un po' sfuggite di mano anche a lui maggiore se posso chiedere quanto sei bravo a sparare io sì sono un cecchino meglio di me quindi lo presumo io lo distraggo immagino che non si aspetti di vedermi ed è un po' che io e il lupo non parliamo da quando sono partita per la guerra e e tu gli spari senza ucciderlo cercherò solo di disarmarlo mi interessa che si allontani dalla signora Lucrezia ametista tu potresti scattare non appena sarà disarmato per placcarlo a terra va bene posso chiedervi un'ultima cosa prima di andare è colpa di mio fratello se Corvo è morto da quello che abbiamo capito immaginiamo proprio di sì bene bene e se vi avvicinate alla porta lei tende una mano alla maniglia e guarda Olga mentre già la combatte mal di testa no sto combattendo la previsione dell'uno che farò tra l'altro hai ancora punti grinta per fare il colpo disarmante sì 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 ne ho ancora tre ne ho usato solo uno ok ok quindi ci sta perfetto anche a punto di vista delle meccaniche del gioco ok Alice vi guarda alza un dito alla bocca e poi tre dita due uno e apre la porta lupo solo Alice sparo puntando appunto alla mano con il coltello mamma mia ok ho fatto sedici tiro salvezze su forza con classe difficoltà 14 alzi il fucile e chiudi l'occhio senza avere il tempo di spostare gli occhiali prendi il colpo appena vedi che stupito dall'entrata della sorella muove leggermente il coltello non abbastanza da avere una visuale chiara sulla mano ma abbastanza da non colpire il collo assieme alla punta del coltello il proiettile schizzi in avanti con un boato colpisci la mano e il coltello salta via ma poi il proiettile non si ferma e colpisce la spalla di Lucrezia e probabilmente dietro anche il fianco di di lupo perché vedete una smorfia di dolore per la mano per il fianco Lucrezia si accascia al suolo con un urlo e poi sviene per terra e Alice inizia subito a muoversi anche lei verso il fratello Ametista tu cosa vuoi fare poi dopo tiriamo iniziativa devo tirare i danni 12 danni urca ok io corro corro subito e cerco di prendere il coltello per allontanarlo e placcare il coltello lo spingi via con il piede subito e vedi il sangue scuro quasi nero che è rimasto sulla lama dove è stato colpito dal proiettile di Olga e poi tirami su forza no anzi atletica zero ok tu ti lanci in avanti tenti di placcarlo ma hai aspettato un attimo di troppo nello spingere il pugnale via quindi Alice arriva prima di te lo prende in vita lo solleva e con una perfetta mossa lo sbatte a terra di peso e poi si mette sopra e inizia a tentare di colpirlo con i pugni per fermarlo vedi che il fratello rimane un attimo spaisato non aspettandosi un attacco e poi reagisce tiriamo su iniziativa proprio nove sei la prima a muoversi Alice quindi tira il pugno in alto colpisce una volta in faccia il fratello più per stordirlo che per altro e poi gli grida in faccia è vero quello che mi hanno detto è vero che hai fatto morire Corvo mentre la rabbia monta nella voce dell'ex soldato gli fa sei punti di danno quindi lo colpisce in faccia un'altra volta e vedete la testa di lupo che sbatte contro il pavimento fortunatamente protetta dal o sfortunatamente protetta dal caschetto Ametista tocca a te io in realtà li lascio prendersi a botte la vicenda e quanto è lontana da me Lucrezia Lucrezia è vicino a te lì sdraiata per terra subito vicino al pugnale vedi il sangue che sgorga dal vestito e sta macchiando il vestito bianco che indossa cerco di di aiutarla fai un tiro su medicina 19 la ferita non sembra essere grave non sei particolarmente competente in medicina non penso ma vedi che il proiettile è rimbalzato contro l'osso ed è saltato via e quindi è una ferita molto meno grave di quello che sembrava all'inizio inizia a tamponare subito il sangue e non riesci a fermarlo subito però si vede che stai già aiutando la poverina e tocca a Lupo che tenta di colpire la sorella la colpisce due volte rapidamente vedete la testa di di Alice da dietro che finiva viene spinta da un lato e poi dall'altra sotto la potenza dei colpi di Lupo e la ribalta sopra e sale sopra lui e gli dice sì l'ho fatto uccidere io ma l'hanno ucciso anche loro quindi perché ti metti in mezzo ancora e tenta di colpirla ancora al pugno alzato Olga tocca a te che roba difficile allora scusate aspettate che dico per i danni che fa ad Alice vi dico com'è la situazione dai movimenti di Alice o è già svenuta o sta per svenire cioè proprio i due colpi gli hanno tolto completamente l'energia e il fatto che comunque è un soldato ma si è fatta ribaltare così facilmente non è un buon segno allora il mio istinto era di andare verso Lucrezia per aiutare ametista a prendersi cura di lei ma quando mi accorgo di questa cosa punto il moschetto verso Lupo e sparo un altro colpo allora la mia idea è comunque di non ucciderlo mi rendo conto che con un'arma da fuoco è difficile tirare un colpo non letale perciò se necessario uso un altro punto grinta che è al posto di usarlo per disarmarlo lo uso per colpirlo comunque in un punto specifico che ne so al ginocchio per dire in modo che comunque lo fermi però non lo uccida perché non voglio che Alice perda anche l'altro fratello e puoi farlo come meccanica di gioco o? eh no cioè volevo chiedere a te se appunto posso usare il punto grinta e al posto di usarlo per cioè alla fine il disarmo è colpire la mano quindi posso colpire la mano per disarmare ok sì sì no non avevo capito scusami cioè vuoi usare lo stesso potere che hai già usato però nel modo di immobilizzarlo il più possibile esatto cioè non ha un'arma vera e propria in mano sta usando i pugni quindi in realtà cioè l'idea è faccio qualcosa per bloccarlo che non sia letale fai conto che per come funziona il gioco comunque puoi sempre fare danni non letali con qualsiasi arma anche se sono sì l'idea è che dovrai stabilizzarlo dopo se è da fuoco ok il problema vero però è che hai già sparato un colpo giusto tiro fuori la pistola esatto ok quindi tiri fuori la pistola la alzi e spari rapidamente verso lupo ok ho fatto 18 colpisce e sono 9 danni ok quindi è necessario usare il punto grinto o no? ti dico solo che è un non letale ok sì basta che dici che non è letale se vuoi usare il punto grinta visto che una mano ce l'ha già ferita comunque dal colpo puoi provare a ferire anche l'altra per immobilizzarlo maggiormente se no lui è probabile che vada avanti a cioè se il il danno non letale in D&D funziona che se lo porti a zero sviene invece che ucciderlo ok però non è immobilizzato no ok allora cioè se posso usare il punto grinta anche sulle armi intese cioè arti marziali per me sì anche presi di svantaggio che siete soltanto due in teoria è un gioco pensato per quattro giocatori quindi quindi lo uso deve fare ancora il tiro salvezza su forza ok con classe difficoltà 14 ok stavolta lo supera quindi lo colpisci e riesci a colpirlo alla spalla invece che alla mano quindi riesci a rallentare il colpo per un attimo e tocca ancora ad Alice che ha il primo tiro salvezza ok e Ametista tocca a te vedi Olga che spara verso di lui lo ferisce alla spalla lui che si sta preparando per colpire ancora Alice a terra e Alice che è già svenuta dal tuo punto di vista si vede che è già svenuta col sangue che le scende dal naso e la faccia gonfia che inizia a gonfiarsi io vado di pistola in realtà con la pistola che mi aveva dato Olga ok che è più rapida dell'arco le frecce e quindi provo a colpire vai 15 tiri fuori la pistola vedi il pugno che inizia a scendere verso Alice e istintivamente spari verso la mano e non hai una particolare competenza con le armi da fuoco Olga non ti ha ancora insegnato neanche quello quindi tiri il grilletto e speri mentre chiudi gli occhi per il rinculo e l'esplosione del proiettile e la cosa che vedi subito dopo quando li riapri è lupo a terra svenuto accanto alla sorella senza essere riuscita a colpirla per ultima volta e qui tagliamo e la scena successiva che vediamo è Corin che entra nella stessa stanza in cui siete un altro paio di poliziotti al fianco lupo ammanettato accanto ai piedi del letto e si avvicina e fa avete fatto un ottimo lavoro grazie grazie Corin è stato complicato ce l'abbiamo fatta stavi per dirlo anche tu ametista stavo per dire anch'io ce l'abbiamo fatta brava ho parlato con mia cugina e ha detto che le avete salvato la vita quindi vi sono anche personalmente riconoscente da qui ce ne occupiamo noi di 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 lupo probabilmente vi chiederò di testimoniare in qualche momento nel futuro sulla questione certo certo per caso si sa qualcosa degli altri minatori nel frattempo gli altri minatori sono tornati alle loro case ottimo alcuni hanno lasciato la città prima dell'arrivo dei criptori quindi li stiamo prendendo in custodia per vedere quanto sapesse e Alice Beltrami come sta io sto bene grazie dice Alice entrando dietro a non pensavo di avercela davanti no si ho aggiunto entrando apposta per continuare su quello che stavi dicendo credo che quando si sarà ripreso e vedete che lupo ancora sedato è ancora sporco di carbone quando si sarà ripreso avrò una lunga conversazione con mio fratello mi raccomando stai attenta perché non sappiamo come funzionano i suoi poteri lo dico quasi sussurrando perché sembra strano ovviamente anche a me anche se ormai dopo tutto quello che è successo mi sembra palese che esistano dei poteri in lui e anche in me implicitamente però appunto è un po' così sembra strano anche a me dice Corinne sbiascicando le parole dovremmo chiamare qualcuno per indagare la cosa se le persone iniziano ad avere i poteri dei criptori potrebbe essere un grosso problema già state attente se vi capita di incontrare un altro criptoreo ma certo lo faremo questa cosa non mi piace per niente comunque fino a quando si tratta di criptori è facile si punta il fucile si spara qualche colpo ma quando sono le persone a prendere i loro poteri diventa complicato capire qual è il limite fino a dove ci si può spingere nel combattere contro di loro e volete sapere la cosa strana da quello che mi sembra di capire dalle prime deposizioni che abbiamo raccolto lupo ha ottenuto i suoi poteri esattamente dieci anni dopo la comparsa del primo criptoreo in che senso dico proprio così perché non riesco a capire poi io ne so poco di criptorei ancora no quindi rimango confusa sono confusa anch'io ma cerco di darlo vedere di meno il conto non è chiaro ma sembrerebbe che più o meno nella data dell'apparizione del primo criptoreo il lupo abbia trovato questo e abbia iniziato a coprirsi di carbone ho parlato con un minatore più anziano nel gruppo salvatore e mi ha detto che più o meno le date coincidono dovrò controllare con gli altri se coincidono veramente però è interessante potrebbe trattarsi anche solo di una coincidenza certo ma non è il mio mestiere credere nelle coincidenze hai ragione hai ragione direi che qui allora ci affidiamo a voi noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto decisamente sì ok c'è qualche altra scena che volete fare perché io ho una scena dopo i titoli di coda io mentre torniamo con la motoretta io tra l'altro ovviamente io guido la motoretta e mi ti stai nel sidecar io direi che un altro ovviamente è che ci siamo fatte pagare quello che dovevamo farci pagare ci dovevamo far pagare qualcos'altro da Lucrezia per le spese sì quello che c'era quello che c'era il suo speso ovviamente ce l'abbiamo fatto pagare non è che scappiamo ma volete avere una scena con Cecilia per esempio o se n'è già andata fugotto fugotto Cecilia non la vogliamo vedere ok e mentre guido con le braccia più alte della testa le braccia tese i pugni più alti della testa mi giro leggermente verso Ametista e le dico hai fatto davvero un ottimo lavoro questa volta inizio io inizio a pensare non mi interrompe Ametista inizio a pensare che potrei considerarti più di un apprendista se può farti piacere io sorrido soddisfatta e le dico sì direi che mi può far piacere e mentre sorrido dico questa cosa mi giro il ciondolo tra le mani perché me lo sono messa al col noto che stai rigirando il ciondolo tra le mani e soghigno un attimo e ti dico ecco beh allora possiamo fare che visto che mi sembri particolarmente legata alla magia in qualche modo puoi decidere tu che cosa fare con quell'oggetto magico se vuoi tenerlo possiamo tenerlo se vuoi venderlo per pagare le bollette possiamo fare così ma onestamente sono stata per anni senza pagare le bollette ti assicuro che si può vivere bene lo stesso io concludo con non ti preoccupare Olga ne parleremo intanto andiamo e ritorniamo a casa mentre stanche affaticate e con qualche livido in più se non proprio qualche ferita rispetto a quelle con cui siete partite la motoretta si muove nei campi di grano con il primo treno del mattino che arriva ad ultimissima nell'altra direzione e voi tornate verso la città di ultimo e l'ultima scena che vediamo prima di passare dallo schermo nero e poi alla scena dopo i titoli di coda è Cecilia che sbatte la francia con la terra con rabbia davanti alla alla villa di acero e poi finisce qui la prima stagione di storia di vapore la luce del sole illumina acero facendo brillare il rosso degli alberi come se fosse fuoco davanti alla villa di lucio i personaggi di questa caccia al criptorio chiudono gli ultimi fili narrativi lucio parla con sua moglie che per la prima volta da anni gli risponde cecilia furibonda per lo smacco subito costringe il timido corin a riaccompagnarla ad ultima sfruttando l'automobile del giovane capitano lupo invece è già ammanettato ed è stato ripulito dal carbone attende di essere trasferito ad ultima in una carrozza blindata della polizia ma quando la carrozza si mette in moto non si dirige verso la città inizia a salire il pendio della montagna verso ruse nero e quando si ferma un poliziotto costringe lupo a scendere dalla carrozza e lo trascina verso la torre mineraria l'ognomo si lamenta e dimena ma la stretta dell'elfo d'acciaio i due entrano nella torre superando le porte distrutte il poliziotto costringe l'ognomo inginocchiarsi sul bordo del pozzo dell'ascensore estrae il revolver dalla fondina e lo punta alla nuca di lupo l'elfo sorride dice qualcosa all'ognomo e poi alza il cane della pistola l'esplosione del colpo rimbomba nella torre ma a cadere nel pozzo non è lupo il poliziotto piomba nell'oscurità morto lupo si gira e sorride mentre il suo benefattore emerge dalle ombre un altro gnomo col volto coperto da un cappuccio le braccia fatte di acciaio che sembra vivo che si muove da solo lungo le spalle i bicipiti e gli avambracci l'ognomo si avvicina e aiuta lupo a rialzarsi poi insieme richiamano l'ascensore e